Teramo sceglie il bello e un nuovo decoro pubblico puntando sui fiori. Si mobilitano gli studenti delle scuole superiori per piantare bulbi nei luoghi verdi della città e ripulirli dai rifiuti. È la riscoperta di un orgoglio cittadino testimoniato dalle generazioni più giovani. Teramo in fiore, sì, ma anche grazie agli studenti teramani. Assolutamente, è stata ieri un'iniziativa bellissima di questi richiesti da loro, proprio dai ragazzi del ginnasio, quindi un segnale importante per la città. Dove avete piantato? Abbiamo piantato vicino al laghetto, al parco frugiale, abbiamo messo a dimora 500 bulbi e tra l'altro loro hanno prima raccolto rifiuti, quindi un bel segnale. Significa che noi dobbiamo continuare su questa strada, parlare di ambiente, di rispetto dell'ambiente e parlare di fiori, perché dobbiamo ridare un decoro a questa città. E sulla scia di questo ritrovato amore per i fiori, l'assessore agli eventi del comune di Teramo, Antonio Filipponi, ha organizzato per domenica prossima una giornata dedicata a piante e fiori che invaderanno il centro storico della città con un mercatino dedicato. Come si trasformerà in questo giorno Teramo? Sicuramente Piazza Martiri, Piazza Orsini e Piazza del Vescovato saranno invasi dai fiori e quindi da tantissimi colori. Poi Corso San Giorgio sarà invece oggetto di esposizione di prodotti tipici e artigianato. Comunque si inizia con questa giornata per poi continuare con altre iniziative? Assolutamente sì, è un'idea condivisa da me e dall'assessore Valdo di Bonaventura quella di un concorso sui balconi fioriti, proprio perché questa città a volte sotto l'aspetto del decoro urbano lascia desiderare, quindi sicuramente un concorso sui balconi fioriti, quindi riportare fiori in città potrebbe essere migliorativo per quanto riguarda l'estetica della città. Speriamo in una bella giornata e che questa domenica sia molto partecipata.